Ciao amici di Italia Top Games, voi avete dei sogni? Io ne ho tanti, tra i tanti c'è quello di avere un flipper di quelli veri, grossi, belli, cabinati che si trovano in sala giochi a casa ora nella casa che ho in questo momento non entrerebbe, non ci sarebbe lo spazio, però un domani quando diventerò un vecchio pensionato che andrà in campagna magari in una casa un po' più grande mi immagino di avere questo bel flipper, in attesa di fare questa cosa c'è Pinball FX3, gioco molto bello di Zen Studios che ci dà una base su cui puoi acquistare vari tipi di flipper ma ce ne sono tantissime, vedete la mia collezione 5 su 96 allora, siccome è arrivata questa nuova collezione di Williams che contiene questi nuovi flipper, ho pensato di mostrarvi questo gioco vi mostrerò il Circus Voltaire che è un po' il più bello di questa nuova collezione io smetterò di parlare, mi concentrerò per fare una bella partita Pinball FX3 ha tantissime possibilità, si può aggiungere la grafica digitale rispetto al flipper classico si possono upgradare i propri risultati online quindi davvero, se uno ama il flipper è davvero la soluzione da adottare allora, dopo tante parole, comunque vi faccio vedere una partita vi faccio vedere con una certa telecamera quella che a me piace parecchio aggiungo la grafica per aumentare la bellezza del gioco e basta, quindi mi fermo nel parlare e mi metto a giocare ecco, così vedete, si toglie la grafica, così ritorna ecco, una pallina sincera subito, subito per fortuna si è salvata alla prossima down, SIVBA defeat Servinio per il ringmaster marvel ma cosa è Parko ho anche lui potentamente Ah Come to the Sideshow This is Sideshow saying Fire that cannon Game Pod Game Pod Game Pod The Sideshow Marvel Do your worst Ow, ooh! Stop that! No more! Not again! Oh no! No! Now shoot the left ramble! Now watch this! Ball one is locked! Player one! You've played that most well! Ball one is complete! Defuse my agilely marble! Very nice! Player one! No! 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 He's gonna kill the left ramble! Ball two is locked! One more for Multi-Ball! Cleo Wanderers! Non c'è un multiball Non c'è un multiball C'è un multiball C'è un multiball C'è un multiball Grazie a tutti! Ecco la multiple! E' andata ragazzi! Almeno però vi ho fatto vedere anche il multiball Ne sono molto contento Vi ricordo soltanto Versione PC del gioco Come potete immaginare Questo è il pacco 5 Dei Flipper Williams Anche se questa è una video recensione Non do un vuoto Perché i Flipper o piacciono o non piacciono A me piacciono molto Quindi questo pacco è piaciuto davvero tanto Questo era uno dei Tre Flipper inclusi Molto belli Diciamo che questo secondo me è il migliore Comunque potete scoprire anche gli altri Nella scheda del prodotto Che vi linkerò nella video recensione Vi ringrazio per l'attenzione E al prossimo filmato Ciao!